Buongiorno a tutti! Sammy, svegliati! È già mattino, ok! Una lavatrice! Ok, ma la mia colazione? Ehi, voglio la mia colazione! La colazione! Eccola qui! Ma sei in ritardo per la scuola! Cosa la scuola? Giusto! Ce l'ho fatta! È l'ora di geografia già! Fisica mi piace di più! Ora andiamo a fare... No! Shopping! Shopping? Perché? Che succede? È ora di pranzo! Pranzo, di già! Ehi! È ora di dormire! Buonanotte! Ma non ci posso credere, Susan! Ah, questo gioco è così immediato! Ragazzi, volete giocarci anche voi? Andiamo! Che vuoi fare, Susy? Ho trovato quello che ti serve! Allora, cominciamo! Prima di tutto, la base per il nostro gioco! Ecco il nastro! Ragazzi, oggi vi serviranno penne e pennarelli! Siu, siu, dammi quel nastro! Tieni! Ottimo! Ora ci vuole quel piccolo personaggio! Ci penso io! Avremo quattro location e quattro arcate! E un po' di magia! Così va meglio! Aspetta, dobbiamo aggiungere qualcosa! Ecco, prendi questo! Hai ragione, sì! Molto bene! Cominciamo! Tu resterai qui, ti piace? Oh, no! È un mondo vuoto e noioso! Oh, dai, aspetta! Quasi mi ha fatto cadere! Susy, abbiamo un'emergenza! Ci servono nuove ambientazioni! Lo farò capo, ho già qualche idea! Wow! Guardate che risultato, ragazzi! Oh, mi gira già la testa! Siu, per favore, smettila di farlo! Sta attento, Sammy! Vediamo che dice la nostra piccola amica! Oh, è vuoto! Questo posto è noioso! Non mi piace! È così difficile da accontentare! Che possiamo fare? Faremo dei disegni, naturalmente! Disegniamo un sacco di oggetti diversi! Ah, dobbiamo aggiungere anche delle caramelle! Oh, forse, aspetta! Qualche gelato, magari! Oh, che ne dici? Ecco, di questo bel pesciolino! Dammi solo un secondo, Sammy! Ok, fatto! Siu, quello è uno skateboard! Posso scendere dalla collina sullo skateboard? Rilassati! Abbiamo un intero set da colorare adesso! Prendili tutti! Ci servono colori molto vivaci! Wow! Cominciamo con le cose divertenti, ragazzi! Ops, Siu si è completamente dimenticata delle ambientazioni! La aiuterò io! Vieni dal tuo slime! Ehi! Fa fare a me! Siu, non essere così avido! Rilassati, Sammy! Susan, guarda! Potremmo piantare questo nella nostra città? No, sono ammessi solo oggetti di carta! Come dici tu? Non ci posso credere! Forse... Forse potremmo fare un vulcano colorato con la schiuma! Ne avevamo già uno, ricordi? Oh, giusto! Ragazzi, a proposito! Trovate quelle creazioni sul nostro canale! C'è ancora molto da colorare qui! Mi aiuti? Sì, sì, sì! Ma fammi cambiare velocemente! Arrivo subito! Oh, eccomi qui! Sarà divertente, chérie! Pardon moi! Hai già finito? Oh, mi spiace, monsieur Magnifique! Ma ho lasciato una parte qui per lei! Oh, fantastico! Ecco fatto! Chissà perché sempre così, Siu! Sei stata bravissima! Mi piace davvero! E io ho finito la mia parte! Vado a cambiarmi di nuovo! È venuto benissimo! Vi piacciono i colori vivaci? Dateci un pollice in su! Ovviamente sono un vero professionista! Adesso ritagliamo tutto con molta attenzione! Sì, altrimenti avremo solo delle pareti vuote! Niente finestre! Niente di niente! Cari adulti, potete aiutarci? Non possiamo fare a meno di voi qui! Ehi! Forse è ora di chiamare la fatina delle pulizie, Siu! Smettila di fare casino! E questo è quello che abbiamo ottenuto! È ora di passare alla fase successiva! Restate con noi, ragazzi! Abbiamo finito con le location, ma dove vivrà il nostro personaggio? Bella domanda, ragazzi! Quali continenti e paesi conoscete? Andiamo in Africa? Non so! In Asia? L'ho trovato! Mandiamola al polo nord! E ciù! Oh no! È meglio mandarla nello spazio! Prima dobbiamo disegnarlo, però! Certo! Creare dei luoghi nuovi è così divertente! E poi ho un paio di idee! Ragazzi, sapete cosa disegnare? Cominciamo! Siu, non ci capisco nulla! Qui è estate, inverno o qualcos'altro? Oh, scusa, Sam! Mi rimedio subito! Ehi, fammi spazio tu! E all'improvviso è apparso una nuvola arrabbiata sopra la città! Prendi questo! Oh, ehi! Siu, calmati! A proposito, la prossima volta sarò io il vincitore! Non abbiamo ancora disegnato la notte! Fantastico! Aggiungiamo questo! Siu, ma il cielo notturno ha bisogno di stelle! Che ne dici? Che ci sto già lavorando, ma devo accelerare! E... Fatto! E un piccolo tocco da parte mia! Siu, fammi strada! Sammy, che stai facendo? Devo fare un'apertura! E l'ho fatta! Che bravo slime che sono! Oh, a proposito! Ora puoi assemblare i pezzi! L'ho già fatto, ragazzi! Possiamo cominciare a giocare! Giocare adesso? Non sono pronto! Siete pronti, voi? Ok, andiamo a fare shopping! Al negozio! No, meglio a scuola! Oh, Sam, è solo una prova! Ragazzi, tra poco cominciamo a fare sul serio! Non andate da nessuna parte, eh? Cominciamo o no? Solo se siete pronti! Io sono nato pronto! Allora cominciamo! C'era una volta una piccola ragazza di carta che viveva in un mondo di carta! Oh, resterò qui! Trovò una casa e cominciò a viverci! Perché non diamo un'occhiata alle sue avventure? Oh, questa casa è così grande! È fantastico! Vediamo che altro c'è in questa città! C'è un negozio qui vicino! Andiamo lì! Oh, che fame che ho! Accidenti! Allora facciamo un po' di shopping e a pochi passi da qui! No, no, no! Oh, eccoci qui! Voglio tutto! Patatine e bibite! Non sapevo però di dover pagare! Accidenti! E ora torniamo a casa! Ma guarda! Mentre camminavamo il sole è tramontato! E adesso è notte! Finalmente siamo tornati a casa! Ma prima di tutto la cena! Buon appetito! Ho l'acquolina in bocca, Sio! Sembra così buono! Vado a fare anche uno spuntino! Qualcuno è davvero stanco qui! Prepariamoci per andare a letto! Ma prima farò un bagno caldo e così rilassante! Chiudiamo le tende! Buonanotte a tutti! Sio, è tutto! Voglio il seguito di questa storia! Sì, tu la sveglierai! Aspetta, è mattina! È ora di cominciare la giornata! Sì, oggi vado a scuola! Giusto, è il suo primo giorno di scuola! Prendiamo la macchina, accendiamo il motore... Oh, ma qualcosa è andato storto! La macchina è rotta! Il nostro personaggio però ha tutto sotto controllo! Come va adesso allora? Sì! Che bello! Funziona di nuovo! Sbrigiamoci ad andare a scuola! E siamo puntuali! La campanella suona adesso! La classe ci aspetta! Studia da sola! Voglio esserci anch'io! 3x3 fa 9, 5x5 fa 25! È bravissima in matematica! Il nostro personaggio ha fatto un ottimo lavoro ed ecco il suo meritato premio! Le lezioni sono finite, ma è troppo presto per tornare a casa! Andiamo all'ufficio postale! Ciao a tutti! Aspetto un pacco da mia mamma! È un regalo dei genitori! Che dolci! Ecco a te! Grazie! Chissà che c'è dentro! Wow! È uno skateboard! L'ho sognato così tanto! Sì! Mi compreresti lo stesso skateboard? Ma certo, Sammy! Oh! Fantastico! È davvero bravissima! Accidenti! Volo! Che corsa! Guardate! Di nuovo sera qui! Ho così tante cose da fare! Devo fare i compiti! E devo studiare tantissimo! Accidenti! Guardate! Un simpatico slime è andato a fare una visita! Immagino che stiano dando una festa! Ma che bello! È il giorno più bello della mia vita! Ragazzi, vi è piaciuta la storia? Diamo un'occhiata alla nostra creazione di nuovo! Ho sognato! E per oggi abbiamo fatto! Sammy, ti è piaciuto il gioco? Oh, Siu, sono felice! Non voglio più lasciare questo posto! Allora resta lì! Che stai facendo? Vi è piaciuto giocare con noi, ragazzi? Dateci un pollice in su! Siu, hai già detto che è meglio iscriversi al canale? Certo! Iscrivetevi al canale, naturalmente! Abbiamo una serie di video su bambole, principesse, torte e molte altre cose! A presto! A presto!